Ho deciso di farvi fare un pezzo di un altro trio, un po' più conosciuto di voi, e sono Aldo, Giovanni e Giacomo. Tu sarai Aldo, tu sarai Giacomo e tu sarai Giovanni. Perfetto. Ok? Per cui scardiniamo anche le dinamiche, voglio sentire come ve le cavate con gli alietti, gli accenti. Nei dialetti originali? Esatto, diciamo che l'unico che resta uguale come altezza è lì. Senta, per favore, è un'ora che cerca sto biglietto, non ce l'ha, dica il biglietto, non è che possiamo stare qui una vita. Venga qui. Vuole questo forse? Ho capito, 20 minuti per tirarlo fuori? Lei che doveva fare? Doveva andare a una festa. E comunque questo biglietto è pluritimbrato. Eh? È stato timbrato più volte, mi spiace. E si vede che l'ho pagato di più. Ho capito. Lei in contravvenzione, non faccia lo spiritoso, mi dia le sue generalità. In generale sto così, così. Eh? Cos'è successo qui, eh? Ah, niente, non c'è il biglietto. Non c'è il biglietto, porca troia, eh? Una bella multina che stia. Senta, per favore, già è difficile, arriva pure lei un disastro, eh? Nome e cognome, avanti. Il mio? No, il suo. Arturo Stanz... Era per dire, per favore, vada a vedere gli scavi, va bene, per favore. Nome e cognome, come si chiama lei? Ha scritto. Ha scritto cosa? No, vedevo che scriveva. E cosa fa? Immagino il suo nome, scusi, come faccio? Ah? Ah? Ieie. Come, scusi? Aieie. Aieie. Cioè, lei si chiama Aieie. Ne sentiamo, come si scrive sto Aieie. A? Ah? I come lunga. No, la apri. Ieie si ripete. Eh, basta, cos'è il nome che si moltiplica di volta che lo si dice? Non è che sia qui a perdere tempo. Per favore, io non sto qui a perdere tempo. Se lei non è andata a fare, vada a vedere gli scavi, le lampade, vada a vedere le lampade, va bene. Sono vecchio, mica sono incoglionito. Per favore, sentiamo. Aieieie. Con un nome così, immagino il cognome. Sentiamo come si chiama Aieie. Cosa? Brazzor. Aieie Brazzor. Cioè, lei si chiama Aieie Brazzor. Cioè, la mamma marocchina e il papà serbocroato, eh? Mai sentito un padre che dice Aieie, vabbia a prendere le sigarette. Mai sentito? Nemmeno io. Mio padre non fumava. Vabbè, ho capito. Faccio lo spiritoso in questura perché... Ma collega! Ma collega! Ma lei cosa vuole? Sì, ma vabbè un culo! Ma bella, collega! E cagessi! Grazie a tutti.